salve ragazzi benvenuti al quarto tutorial dedicato a open board l'argomento di oggi è lo strumento makepack.bat come abbiamo visto nel video 1 che tramite lo strumento board pack abbiamo trascinato il file pack nello strumento board pack e si è creata una cartella data contenente tutto ciò che riguarda il gioco con lo strumento makepack.bat l'operazione è esattamente l'opposta infatti è uno strumento per rendere più facile il confezionamento della cartella data è semplice come trascinare la cartella data sul file e creare il file .pack cioè in formato pack cioè quello che noi dobbiamo fare è prendere la cartella data che riguarda il gioco trascinarla nello strumento makepack.bat e creerà appunto il file in formato .pack il file pack è il gioco in pacchettato per fare spazio e ottimizzare il gioco e caricarlo più velocemente. questo metodo è utile quando vogliamo avviare vogliamo mettere nella cartella packs più giochi e poi noi quando avviamo l'eseguibile open board uscirà una lista in cui noi possiamo scegliere il gioco in cui giocare spero di essere stato chiaro se avete dubbi problemi incertezze contattatemi pure scrivetemi nei commenti risponderò prima possibile vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo il prossimo video tutorial dedicato a open board